Le famiglie di Campobasso sarebbero tra le più tartassate d'Italia da un punto di vista delle tasse. A dirlo è la CGA di Mestre che ha appena divulgato l'ultimo report sull'imposizione fiscale e ha già ricevuto molte contestazioni in verità. Questo perché, secondo l'ufficio studi, il ricco Nord pagherebbe meno tasse del povero Sud e ovviamente la notizia fa infuriare i settentrionali da sempre convinti di sopportare sulle loro spalle il peso di tutta la nazione. Ad ogni modo i dati che la CGA presenta parlano di una differenza di ben 783 euro tra quello che paga una famiglia di Reggio Calabria, città al top della classifica dei dissanguati dal fisco, e una di Udine al fondo della lista che vede Campobasso al nono posto. Il campione preso ad esame è un nucleo familiare con un unico lavoratore, coniuge e figlio a carico, reddito anno 31 mila euro, abitazione di proprietà 100 metri quadrati e automobile. Se consideriamo la qualità e la quantità dei servizi offerti, è evidente che questo gap non ha alcuna giustificazione e la gran parte delle famiglie del Sud che pagano le tasse subiscono una vera ingiustizia, ha commentato il coordinatore dell'ufficio studi Paolo Zabbeo, attirandosi le ire da tutta la Lombardia e Nord-Est. Ma poi Zabbeo spiega che a gravare sulle tasche dei cittadini del Sud pesano in particolar modo l'addizionale regionale IRPEF e Latari. E l'esossità della prima è dovuta al fatto che quasi tutte le regioni del Sud sono in disavanzo sanitario. L'elevato peso della seconda invece è riconducibile al fatto che i costi di gestione delle aziende di asporto rifiuti sono eccessivi e, come prevede da alcuni anni la legge nazionale, devono essere interamente coperti dagli utenti con il pagamento del tributo. A Campobasso, secondo lo studio, la famiglia Campione paga in media quasi 7.500 euro di tasse. La situazione però è destinata a migliorare, dice la CGA di Mestre. Con l'abolizione della tassi sulla prima casa, le famiglie italiane risparmieranno nel 2016 mediamente tra i 200 e i 250 euro.